Alla vigilia dell'atteso derby con il Trapani, Iachini carica il Palermo che vuole continuare a vincere per scalare sempre più la classifica della Serie B. Affrontiamo questa partita con la consapevolezza che è un'altra tappa di questo campionato che ci deve portare a una crescita costante. Un avversario che sicuramente rispettiamo perché ha conoscenze, si conosce bene, ha vinto un campionato lo scorso anno, ha inserito in questo campionato, dopo aver vinto il campionato, giocatori anche esperti, no, per interlizzi, io un cocero di dare, tanto per fare qualche numero, e sono in questo campionato di B sicuramente un valore aggiunto. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 delle scorse partite, ma per il derby non esclude un cambio di modulo. Antimino noi dobbiamo essere bravi anche a saper cambiare, sia lo stesso schieramento, sia andando a variare qualcosa, il corso di partita, premesso che rispettiamo molto i nostri avversari, ma poi in campo non dobbiamo temere nulla e nessuno, andarci a giocare le partite sia in casa che fuori casa con la stessa mentalità, lo stesso spirito, che è una squadra che vuole costruire una mentalità forte, va interpretata.